Molto bene signori, oggi parliamo di ottimizzazione dropshipping perché nel momento in cui riesci a realizzare un sito, riesci a realizzare una store che sia veramente funzionale sei già a cavallo Porto il progetto Zero2Million come già ben sapete non è solo quello di farvi vedere quello che andiamo a fare quello che andiamo a realizzare e insegnarvi come farlo anche voi ma è proprio farvi sviluppare una mente, farvi sviluppare un pensiero che vada a intuire quelli che possono essere eventuali problemi quelli che invece possono essere soluzioni che magari neanche noi stiamo trovando e che voi potete invece andare a trovare per il vostro store, per il vostro trading, per le cripto per qualsiasi cosa, e funziona chiaramente Oggi in particolare parliamo di drop Perché di drop? Perché stiamo per lanciare un progetto abbastanza assurdo stiamo per lanciare un progetto abbastanza unico, più che assurdo un progetto che veramente ha del sensazionale un progetto più che unico per quanto riguarda l'Italia lo so, ho già detto ma è proprio un aggettivo specifico e giusto per quello che andiamo a fare Domani faremo un meeting, faremo un meeting e quindi tutte le informazioni che sappiamo già tutte le informazioni che useremo per sviluppare questo progetto unico ve le andiamo già a dare adesso Voi sapete che abbiamo già sviluppato uno store in dropshipping ve l'abbiamo già fatto vedere, vi abbiamo già mostrato tutti gli screen come è venuto perché l'abbiamo fatto semplice, perché deve avere un tema semplice e impattante e soprattutto come abbiamo gestito la campagna pubblicitaria quindi abbiamo scelto l'organico, l'advertising organico con i classici video su TikTok, così alla buona per gli amici quindi questa è la nostra strategia Ora domani andremo a discutere di diversi punti andremo a discutere di tutte le altre varie strategie Advertising Instagram, advertising TikTok non organico Advertising Facebook, advertising Google, un sacco di tipi Advertising con gli influencer, quindi veramente un sacco di tipi di pubblicità E quella che è la, diciamo, la fase principale di tutto questo è la decisione Uno deve andare a mettere giù un piano per questo avevamo fatto prima dell'estate, giugno, lui mi pare il video sul business plan, perché voi non avete capito che forse tutti i video ci saranno un centinaio, forse anche di più che sono già usciti su questo canale sono tutti mirati a quello che stiamo andando a fare Ogni punto detto prima tornerà utile dopo Quindi questo è il fulcro, diciamo In poche parole, quello che vogliamo mostrarvi quello che voglio spiegarvi nel video di oggi semplicemente è quello che noi siamo andati a realizzare questo strategia che avete già visto scrublio.com, potete andare a visitarlo, potete acquistarlo, potete fare quello che volete E vi ho fatto vedere anche come stiamo scegliendo di sponsorizzarlo quindi con l'advertising TikTok organico Ma la cosa principale è che non esiste solo questo modo qua Ora, adesso vi faccio vedere un attimino un piccolo screen qua veloce dei dati, ok? Vedete che ci sono i primi video che sono arrivati più o meno quasi mille visualizzazioni In realtà non l'abbiamo ancora rotta questa soglia, siamo sempre sui 900 come massimo Però è già buono, circa 20 follower I like salgono, quasi 200 Quindi sta salendo Sta salendo, ricordiamo che siamo al quinto giorno E' stato iniziato tutto praticamente domenica Quindi quinto giorno Siamo al... cosa sono? 9-10 video? Comunque non vedo bene perché lo screen magari lo metto in post-produzione Comunque saranno sui 9-10 video Quindi circa una media di un paio al giorno Ora, qual è il fulcro della questione? Il fulcro della questione è che con l'advertising TikTok chiaramente ci va tempo Come avrete potuto vedere anche nei video di Samuele Ferrari Che ve lo consiglio se volete andare a informarvi ancora meglio sul drop Non che le cose che diciamo noi non valgano Ma lui proprio è il god assoluto, il dio assoluto Quindi come potreste vedere anche da lui se andate a vedere i suoi video L'advertising TikTok organico richiede tempo Richiede tempo oppure richiede una bottarella di culo Nel senso che è possibile che un video ti vada virale in 5 minuti Che ti faccia 1000 follower in un giorno E dopo 3 giorni ne hai già 20.000 e vendi Però qui appunto rientra la piccola microscopica parte del culo Ok? Altrimenti invece te lo devi fare il culo per raggiungere gli obiettivi Devi essere costante, devi fare video accattivanti Devi fare video che piacciono E soprattutto non devi far perdere l'attenzione Perché altrimenti bastano 4-5 video che non partono L'algoritmo ti silura e ciao ciao Quindi devi sempre fare dei video accattivanti Che nei primi secondi facciano vedere quello che è il tuo prodotto Ricordiamoci che su TikTok le persone hanno raggiunto la soglia di attenzione minima Probabilmente della storia umana TikTok è realizzato apposta perché l'attenzione non vada oltre il paio di secondi Quindi è già raro arrivare anche a 4-5 Quindi capite bene che nel momento in cui scrollate A me lo facciamo tutti inconsapevolmente Ma anche io, anche noi Lo facciamo tutti inconsapevolmente Stiamo circa un secondo e mezzo o due Giusto per capire di che cosa si tratta un contenuto Se in quel secondo e mezzo o due Tu non hai catturato l'attenzione del tuo potenziale cliente Del tuo potenziale visitatore A meno che non ti segua Quindi se ti segue è un conto Ma se non ti segue sei finito Quello lì col cavolo che ci torna lì sopra Quindi il fulcro principale è attirarli in quei due secondi Il format di video migliore è quello dove tu impatti subito tipo un'esplosione Quello che fai vedere Poi ricominci da capo Quindi tu fai vedere la cosa E poi taglio netto e fai vedere Questo è il mio prodotto Fa così cosa Dessa, sinistra, alto, basso E poi arrivi a quel momento lì Tutto ovviamente se concentrati in 10-15 secondi Non in 20 minuti Quindi il fulcro di tutto sta in quei primi due secondi I primi due secondi Dei tuoi primi dieci video Determineranno tutta la storia del tuo store Chiaramente se vai in organico Poi se fai le azze e tutto un altro discorso Se vai in organico I primi due secondi Dei primi dieci video sono la parte importante Questa cosa qua non ve la dice nessuno Questa cosa qua ha un valore aggiunto che non troverete da nessuna parte Questo neanche da Samuele Ferrari Quindi oggi ho voluto svelarvi questo segreto Perché domani andremo a discuterne per creare un meeting Nel meeting per creare questo progetto riguardante il dropshipping unico in Italia E il punto, il fulcro di tutta la questione è questo I primi due secondi dei primi dieci video I primi due secondi dei primi dieci video Ma ripetilo con me I primi due secondi dei primi dieci video Se tu fai bene queste cose qua C'hai l'80% di possibilità che i contenuti poi vadano Dico virali, un milione di like Però vadano discretamente bene Se tu invece scarseggi in questa fase E' quasi certo che non andranno bene Ora, perché sono così importanti Questi primi due secondi dei primi dieci video Adesso te lo spiego I primi due secondi come abbiamo detto Sono la soglia di attenzione Quindi se tu catturi le persone in cui i primi due secondi Sei abbastanza a posto I primi dieci video sono quelli che TikTok più o meno ti dà Per far capire al suo algoritmo Se tu vali o no Cioè se vale la pena sfingerti oppure no Perché dieci video? Dieci video circa Noi possiamo considerarlo una settimana Perché poi se fai dieci video in un giorno Allora li hai un discorso diverso Lo impalli Ciao E anche dieci video in due mesi Un discorso ancora diverso Non parte proprio Se tu fai un paio di video al giorno Uno, magari un giorno due E li diluisci dai 4 ai 6 giorni 4-6-7 giorni Questa è la fase di tempo di cui tu hai bisogno Perché l'algoritmo funziona E se l'algoritmo funziona Inizi a piazzare le vendite Quindi ricordati I primi due secondi dei primi dieci video Questo è il segreto che ho voluto condividere oggi con te Grazie a tutti Grazie a tutti